E restiamo in tema a contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nella società civile e nell'economia e l'obiettivo di un protocollo d'intesa firmato oggi tra la prefettura di Potenza e la comune di Melfi. Vediamo di cosa si tratta con Francesco Bonaduce. Prevenire i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nell'affidamento di lavori, servizi e forniture. Questo è l'obiettivo del protocollo siglato a Potenza tra il prefetto Michele Campanaro e il sindaco di Melfi Giuseppe Maglione. Con quest'atto vengono introdotte maggiori cautele rispetto a quelle già previste dal codice antimafia. Il comune di Melfi si impegna a inserire clausole contrattuali a cui saranno tenuti gli imprenditori che partecipano ai bandi. Qual è lo scopo? Quello di estendere la soglia dei controlli antimafia ed estenderla sui cosiddetti contratti sotto soglia, cioè quelli che solitamente sono oggetto di monitoraggio, sotto i 150 mila euro e nella fascia tra i 40 e i 150 mila euro. Sul tema dei controlli antimafia si gioca lo sviluppo dell'economia di questo territorio. Sono 22 le interdittive finora adottate nell'anno in corso dalla prefettura, gran parte delle quali proprio verso aziende del Vulture Melfese. È importante il discorso di fermare queste tentative e dare soprattutto all'esterno visibilità e soprattutto far capire all'esterno quanto la legalità sia importante nell'ambito appunto della nostra istituzione proprio per evitare quello che tra virgolette è rischiato di succedere in passato e che invece assolutamente con questo protocollo insomma mettiamo proprio una barriera per far sì che possa essere evitato. Il protocollo è valido per due anni e potrà essere rinnovato alla scadenza.